Ciao a tutti, benvenuti e bentornati qui sul mio canale. Oggi nuovo video, appuntamento mensile con la rubrica Quanto costa vivere da soli? Questo è il quarto episodio e oggi vi dirò tutte le nostre spese di agosto e faremo un po' il bilancio appunto del mese di agosto. Se siete nuovi o se ancora non siete iscritti al canale vi invito a farlo, è gratuito e vi permette di non perdervi tutti quanti i miei prossimi video e soprattutto se vi piace questa rubrica sappiate che continuerà almeno per un po'. Vi parlerò mese per mese delle spese che si hanno a vivere da soli. Se siete nuovi ci siamo trasferiti qui a maggio e sul canale trovate ben 4 video, questo qui è il quarto, con ogni singolo mese per vedere un po' quali sono le spese che si hanno e come cambiano i vari bilanci mensili. Agosto è stato un mese particolare, mettiamola così, non ci sono state le bollette, quelle le trovate nel video precedente ossia nel video di luglio, dedicato al mese di luglio, però abbiamo avuto la rata del condominio e siamo stati comunque molto a casa da lavoro quindi abbiamo passato più tempo a casa e questo significa anche che abbiamo ad esempio pranzato molte più volte a casa. Però direi di partire così piano piano capite un po' tutte le spese che abbiamo avuto. Parto, come sempre vado abbastanza veloce su certe voci e mi soffermo un po' di più su altre. Per quanto riguarda la spesa del cibo, quindi per mangiare, in agosto me l'aspettavo abbiamo speso un pochino di più come sapete noi lavoriamo entrambi in ufficio e passiamo entrambi il pranzo fuori mentre ad agosto essendo stati in ferie, io due settimane mentre Davide e tre abbiamo pranzato molto più spesso a casa e questo significa anche dover avere più cibo in frigo e quindi abbiamo fatto più spesa però devo dirvi che contro i 271 euro di luglio abbiamo speso 297,52 quindi non è cambiato di tantissimo, si è leggermente alzato dei quattro mesi da quando siamo qui è sicuramente il mese più alto per quanto riguarda la spesa di cibo però devo dire che 300 euro in un mese, in due per mangiare, pranzo e cena praticamente tutto il mese non è un cattivo risultato, però fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Allora passiamo alla seconda voce, ossia la spesa per l'auto in teoria questo mese avrebbe dovuto essere, se si dice, se è italiano, più bassa rispetto agli altri mesi perché comunque il fatto di essere stati due settimane io e tre settimane in ferie entrambi significa anche che non abbiamo utilizzato tantissimo la macchina non l'abbiamo fatta avanti e indietro come facciamo normalmente tutti i giorni in realtà questa voce rimane comunque alta e vi dico già che ammonta a 176,78 euro si tratta solamente di benzina, più o meno al pari di tutti i quattro i mesi precedenti tra i mesi precedenti, è più alta nonostante forse poteva non esserlo perché inizio mese ho fatto un pieno io e sono partiti 100 e passa euro perché purtroppo i prezzi sono quelli che sono ha fatto un po' di pieni Davide e un pieno che forse avrei potuto evitare l'ho fatto anche a metà agosto, in realtà perché siamo usciti di casa siamo andati in un centro commerciale dove c'è anche il benzinaio e quel benzinaio costa particolarmente meno rispetto a quelli di tutta la mia zona e quindi nonostante avesse ancora a metà il serbatoio abbiamo deciso comunque di fare il pieno quindi ho fatto praticamente un pieno e mezzo usando meno l'auto infatti oggi è il 9 settembre e ancora non ho fatto il pieno perché appunto mi è avanzato quello di agosto passiamo ora alla terza voce ossia la spesa per l'igiene personale e della casa una voce che avete visto nei mesi precedenti se avete seguito questa rubrica è sempre stata molto bassa sia per il fatto che comunque mi vengono omaggiati tantissimi prodotti per il lavoro che faccio ossia la beauty content creator e quindi molto spesso ci capita di avere scorte di bagno schiuma di shampoo di appunto cose per igiene personale per mesi quindi non compriamo tantissimo però questo mese in realtà questa voce è un po' più alta perché ho comprato due confezioni della pillola che assumo tutti quanti i giorni ho comprato la tachipirina che è un medicinale che non avevamo in casa e quindi sono andata a comprarla per avere appunto se dovesse succedere qualcosa per averne una scorta e siamo andati anche da Risparmio Casa che è il negozio dove andiamo noi subitamente a comprare i detersivi a prendere un po' di detersivi perché abbiamo iniziato a terminare la scorta che secondo me era quella di maggio per quanto riguarda i detersivi in realtà abbiamo comprato anche ad esempio scottex, cartigenica, cose anche per la cucina abbiamo speso 23,95 euro da Risparmio Casa e 6 euro alla Lidl per un totale che vi dico subito di 60,95 euro quindi comprende detersivi e medicinali ci può stare ovviamente i medicinali non li compreremo tutti i mesi perché fortunatamente non prendiamo ad esempio un occhio o una tachipirina ogni singolo giorno però appunto questo mese abbiamo fatto una piccola scorta sia di detersivi che appunto di medicine passiamo ora alla spesa per i gattini come sapete abbiamo preso due gatti e ovviamente dobbiamo curarli, sfamarli e insomma mantenerli mettiamola così e quindi questo mese vi dico che cosa abbiamo dovuto acquistare per i gatti allora croccantini no perché se avete visto la rubrica sapete che abbiamo comprato una confezione da 10 kg su Amazon che ci dovrebbe durare almeno un altro mese, forse anche un mese e mezzo però abbiamo acquistato la lettiera perché abbiamo trovato in un negozio che si chiama L'Arca di Noè abbiamo trovato due confezioni di lettiera da se non sbaglio 20 kg l'una e ne abbiamo comprati due e in più abbiamo comprato dei bastoncini che per loro sono quasi come le nostre caramelle dei bastoncini che noi chiamiamo premietti in realtà li ridiamo anche quando non sono bravi perché comunque gli piacciono tantissimo e ogni tanto gli ridiamo e quindi abbiamo comprato anche qualche premietto nonostante questa sarebbe stata una spesa bella alta abbiamo speso 10 euro e 55 perché avevamo ancora un buono che mi aveva regalato mia sorella per il compleanno però sempre per i gatti siamo stati in copp dove devo dire hanno molta scelta almeno nell'ipercop dove siamo andati noi hanno molta scelta per i gatti gli abbiamo comprato il patè marchio copp che devo dire gli piace molto costa poco e gli ingredienti sono validi perché i primi ingredienti sono carne, proteine, queste cose qua e gli abbiamo comprato quindi un po' di cibo un po' di patè e un giochino beh, costava un cavolo e abbiamo speso 11,18 euro e poi sempre su Amazon abbiamo acquistato il loro preferito di patè stuzzi sono delle mousse singole che io in realtà divido a metà le do metà uno e metà l'altro e abbiamo fatto scorta perché hanno degli ottimi prezzi su Amazon è comodissimo perché ne compri 32 scatolette vi lascio anche la foto di quelle che al giorno 9 settembre abbiamo ancora e abbiamo speso 15,84 euro vabbè, 2 euro alle euro spina abbiamo preso dei sacchetti per raccogliere la lettiera però direi nient'altro e la spesa per i gatti ammonta a 39,57 euro ci può stare diciamo che noi abbiamo pensato che più o meno senza le spese veterinarie spese extra, più o meno 30 euro al mese o poco più per i gatti si riesce a starci dentro ovviamente se compri 40 kg di lettiera significa che a settembre e probabilmente anche ad ottobre non la compreremo quindi magari un mese spendi di più il mese dopo spendi un pochino meno ma lo scopriremo solamente vivendo prossima voce sono gli abbonamenti ossia il internet e telefono di casa in realtà il telefono di casa abbiamo il numero ma non abbiamo il telefono vero e proprio però appunto c'è legato anche internet quindi è la nostra linea fissa abbiamo le due linee mobili quindi il mio telefono cioè il mio piano da rifare del telefono è quello di Davide abbiamo fatto un abbonamento da Zon abbiamo fatto vabbè io ho iCloud quello di Apple per avere più spazio per le foto però niente di particolare più o meno sono sempre gli stessi abbonamenti che paghiamo e la voce è un pochino più alta degli scorsi mesi no in realtà non è anche tanto più o meno in linea e abbiamo spesa in totale 61,42 euro che ci sta andiamo per ordine e partiamo con la spesa legata alla casa come sapete in questa spesa tutti i mesi quindi in tutti i miei video di questa rubrica troveremo il mutuo perché ovviamente il mutuo per la casa lo si paga tutti quanti i singoli mesi per chissà quanti mila anni e la mia rata di mutuo è 283,69 euro quindi questa è una voce che è assolutamente fissa non si sposta anche perché io ho un tasso fisso quindi quello è quello rimane per 30 anni o 25 nemmeno mi ricordo poi abbiamo avuto la prima rata di condominio che ammonta a 157,19 euro questa rata include se non sbaglio luglio e agosto piccola premessa nonostante il nostro sia l'appartamento più piccolo di tutto il condominio quindi dovremmo pagare ovviamente meno per via dei millesimi queste cose qua questa rata è un pochino più alta perché il passaggio dal vecchio proprietario al nuovo ha dei costi e soprattutto perché l'anno scorso diciamo il condominio ha speso meno quindi gli altri condomini hanno tipo una specie di credito che gli torna e gli storna un pochino di bollette in questo caso sono 75 euro al mese più o meno che comprendono anche l'acqua la luce condominiali in teoria la nostra rata dovrebbe essere più bassa quindi non è 70 euro al mese ma forse anche 55-60 mi avete scritto che bene o male non è una spesa folle è una spesa abbastanza classica di chi ha l'amministratore di condominio a noi sembra un pochino alta considerato che non abbiamo l'ascensore però in realtà comprende anche ad esempio le potature le fognature che magari in certi condomini vengono pagati poi extra quindi non lo so diciamo che è una spesa abbastanza in linea e in questa voce rientra l'ultima spesa che abbiamo sostenuto ossia ERA inizialmente avevamo luce con Enel e gas con ERA siamo però passati anche per quanto riguarda il gas a Enel non so se sia una scelta giusta o sbagliata ma in questo momento non si capisce nulla però c'è arrivata una piccola ratina perché in luglio avevamo comunque pagato il gas ma una piccola rata che secondo noi comprende i giorni ancora di competenza prima del passaggio di 14,74 euro per un ammontare della spesa a casa di 455,62 euro passiamo alla spesa hobby per chi fosse nuovo in questa rubrica la spesa hobby comprende tutte quelle spese che diciamo rappresentano uno sfizio un extra un qualcosa che avevamo voglia di comprare per noi niente che non si possa evitare quindi non è una spesa che si ha generalmente o che si è obbligati ad avere e ci tengo a dire che solitamente noi quando acquistiamo una cosa che non è necessaria è uno sfizio o qualcosa che ci andava di comprare teniamo sempre conto di come sta andando il mese teniamo magari conto che questo mese non avremo le bollette quindi possiamo spendere un po' di più però insomma siamo consapevoli di quanto abbiamo già speso e quanto abbiamo già guadagnato non è che spendiamo e spendiamo di qua e di là ad essere a manca però vi cito alcune delle voci che sono presenti questo mese quindi agosto allora ho comprato la O-Bag la mia borsa un regalo di Davide l'ho pagata 54 euro all'outlet siamo andati a mangiare la pizza abbiamo speso 20 euro abbiamo comprato dei vestiti perché da quando ha aperto Primark a Bologna è la nostra rovina quindi abbiamo speso parecchie volte la Primark abbiamo acquistato il volo di andata per il viaggio che faremo a Natale tra Natale e Capodanno non vi dico ancora dove niente non vi dico niente però abbiamo pagato intanto il volo di andata 52 euro e 48 poi ad agosto ho invitato qui i miei parenti non tutti ovviamente perché erano che invito 50 persone però i parenti più stretti quindi i miei cuginetti i miei genitori mia sorella quella e ho offerto la pizza quindi insomma una pizza per 12 persone poi abbiamo acquistato piccolo spoiler di dove andremo abbiamo acquistato due giacche della North Face le giacche della North Face costano delle cifre un po' spropositate sui 300 euro però avevamo bisogno di una giacca che tenesse veramente veramente caldo perché a Capodanno andremo in un posto molto molto freddo e abbiamo trovato le giacche della North Face in super offerta ossia 150 euro l'una che è veramente pochissimo però abbiamo deciso di acquistarle pagandole in tre rate e quindi abbiamo pagato la prima rata delle giacche della North Face che abbiamo pagato 99 euro magari vi metto qua una foto in cui indosso la mia giacca della North Face poi tan 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 abbiamo vabbè siamo tornati dai Primark siamo andati all'IKEA però all'IKEA vabbè l'abbiamo messo in obbi perché in realtà abbiamo mangiato all'IKEA pranzato all'IKEA vabbè non so dirvi ogni singola voce se no non finiamo più però posso dirvi che anche questo mese siamo riusciti a spendere ben 545,88 euro di spese extra hobby spizzi chiamateli come volete ma vi assicuro che sono spese che si possono rimare ovviamente uno poi decide che tipo diciamo di stile di vita fare quindi se andare a mangiare la pizza fuori piuttosto che farsela in casa se comprarsi una giacca della North Face piuttosto che una di Primark se andare fuori a cena piuttosto che cucinare qualcosa in casa in base ovviamente a quanto sta spendendo e quanto sta guadagnando non è che uno va a guardare nelle tasche degli altri ognuno vive nel modo in cui può diciamo permetterselo e quindi questo mese ci siamo concessi un pochino di sfizzi e ci sta ci sta assolutamente ultima voce altra spesa e come per ogni mese che si rispetti questa spesa è quasi completamente rappresentata da Ikea Ikea è la nostra rovina credo che l'unico modo per non spendere da Ikea è non andare da Ikea e non andare sul sito Ikea è l'unico modo vi assicuro per non spendere da Ikea perché anche quando noi diciamo andiamo a fare un giro da Ikea magari quando c'è veramente caldo fuori e noi dice vado da Ikea che c'è l'aria condizionata faccio un giro impossibile uscire senza spendere e questo mese siamo andati ben tre volte da Ikea premessa dobbiamo ancora pagare dei mobili che ci hanno portato ad agosto che però inizieremo a pagare a novembre perché abbiamo preso rate altra premessa stiamo ancora finendo di arredare piccoli particolari la casa quindi ci sta che ancora ci sia Ikea per ora a settembre non c'è ancora la voce Ikea ma non diciamolo troppo forte comunque magari vi lascio qualche schermata qua anche degli ordini che abbiamo fatto da Ikea per capire un po' dove cavolo spendiamo tutti i soldi da Ikea in che cosa in che articoli abbiamo comprato ad esempio un piccolo callax per questa stanza quindi lo studio in cui abbiamo messo la stampante i fogli i documenti queste cose utili abbiamo acquistato ad esempio i cassettini per il callax oppure abbiamo acquistato delle mensole per l'armadio per cercare di completarlo abbiamo acquistato una mensola anche con il vetro per me poi non so perché Primark l'abbiamo messo qua forse doveva stare nella spesa hobby ma fa niente insomma alla fine questa spesa ossia l'ultima ammonta a 385,70 euro non so se avete tenuto il conto delle varie spese però direi il bilancio bello pesante anche questo mese perché siamo riusciti in totale a spendere in agosto ben 2023,44 euro se il conto è corretto lo so è tanto c'è anche da dire che per vari motivi ad agosto abbiamo guadagnato qualcosina in più e quello che ci tengo a dire è che noi ci siamo più o meno posti un obiettivo mensile di mettere da parte almeno tot al mese magari non sarà facile tutti i mesi per ora siamo veramente stati bravi ovviamente ci saranno sicuramente dei mesi in cui ci sarà da cambiare un grosso elettrodomestico si romperà qualcosa dovremmo aggiustare qualcosa e ci saranno anche mesi dove sarà veramente tosto mettere da parte dei soldi però quando noi spendiamo ad esempio 500 passa euro nella spesa hobby teniamo comunque conto di quanto riusciamo anche poi ad accantonare a fine mese non è che siamo dei pazzi che qualsiasi cosa che vogliono la comprano e quindi insomma anche questo mese siamo riusciti a mettere da parte quello che c'eravamo passi come obiettivo e il totale insomma è 2.023 euro virgola 44 senza le bollette che in teoria arriveranno a settembre considerato che mi è venuto mal di gola e ho il fiatone credo di aver parlato troppo forse incide anche la partita di tennis che ho fatto stamattina con mio padre per il fiatone credo di aver parlato veramente tanto anche questo per questo mese però trovo che spiegare un po' meglio dove sono andati a finire questi soldi sia utile possa essere utile per voi quindi spero davvero che questo video vi sia stato utile mi raccomando se non volete perdervi i prossimi episodi di questa rubrica iscrivetevi al canale e anche se non volete perdervi tutti quanti gli altri video in particolare i video beauty mettete un like appunto per farmi capire se questa rubrica vi piace e vi è utile andate a seguirmi anche su tutti quanti gli altri social se volete andare a vedere i vecchi episodi ho creato una playlist in cui vi trovate tutti quanti magari se mi ricordo ve la link anche qua sotto e basta direi che per oggi è tutto quindi vi saluto vi aspetto numerosi nel prossimo video vi mando un grosso bacio ciao grazie a tutti